ciao amici adesso vi porto a fare un giro qui a nel mio paese guardate che bello questo questa finestra con tutti ignometti andiamo questo il mio paese un po piccolo è un po piccolo ma si può andare in giro c'è qualcuno qui che mi sente c'è mai nessuno in giro guardate che bello visto il tramonto adesso vi porto giù a far vedere il mio lago il lago di cavazzo che sarebbe sì non sarebbe il mio lago questo sarebbe il paese delle farfalle dove sono disegnate vedete le case adesso vi porto giù così con me che mi vedete cazzo ci sono quelli della scuola acqua tavoli non mi piace farmi vedere riprendere e non posso riprendere loro ma lo facciamo così non posso riprendere loro e prendo da questa parte ci sono i bambini della scuola elementare che stanno giocando non so ancora perché non sono andati ancora a casa vedete questo dopo quando torno su vi faccio vedere dall'altra parte perché non posso girare non so come si fa a girare comunque adesso faccio vedere io che vado un po in giro che mi guardano penseranno che sono scema eh sì e non importa che pensino a quello che vogliono tanto non sono di torneppo e quindi non so se c'è la mia amica no tutto buio quindi non c'è comunque adesso vi faccio vedere vedete quello è un altro disegno vedete molto bene un altro disegno mi farò vedere un giorno tutti i disegni del paese del mio paese insomma qui è un paese di poche anime tutti sanno tutto di tutti però non importa a me piace il mio paese piace stare qui che si può uscire e non trovare nessuno che rompere scatole assembramenti o cose del genere adesso che hanno portato sulla scuola c'è un po di via vai se no sarebbe morto il paese adesso sono arrivata qui subito giro la macchinetta e vi faccio vedere il paesaggio che vedo io dovevo uscire prima quando c'era il sole vi farò vedere anche col sole adesso giro piano piano e vedete vedete che bello se riuscite a vedere quella via c'è il ponte dell'autostrada che va su a Tarvisio e in Austria adesso faccio vedere la meridiana che hanno fatto per sapere loro in tutti i paesi adesso vi faccio vedere la meridiana che riesco a farvelo vedere vedete la meridiana bella eh bello guardate che bello bellissimo bellissimo proprio un bel paese guardate e non si vede non si vede bene tramonto da qui non ancora non si vede per vedere gli effetti insomma adesso dopo questo video vi faccio un altro video portandomi a casa e quindi vi faccio vedere senza parlare ok allora ciao amici vi voglio bene e al prossimo video al prossimo video